Beh, che dire ragazzuoli miei, pagelle di Nant, Juventus, Nant Zero, Juventus 3, oggi alle 12 usciranno, anzi ci sarà l'estrazione per la nostra prossima avversaria, quindi questo video esce un po' prima perché il rischio qual era di pubblicarlo dopo l'estrazione? Che potesse andare per le lunghe, quindi puoi editare questo video, renderizzare questo video, caricare questo video chissà quando esce, ho preferito fare le pagelle prima, noi tanto possiamo mettere una tra Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union San... non so chi, quindi una di queste, dopo andremo a vedere chi, ovviamente quella da evitare l'Arsenal, capolista della Premier League, da evitare dal punto di vista della difficoltà, dall'altra parte potrebbe essere una gara molto interessante, anche se probabilmente l'Arsenal è meglio beccarla un po' più avanti, nel caso, perché mi sembra comunque una partita complicata, al prossimo turno va benissimo una tra queste, tranne l'Arsenal e poi eventualmente andiamo ad aumentare i gradi di difficoltà in caso di passaggio al prossimo turno, perché questo è un po' secondo me quello che dobbiamo pensare in questo momento, perché... no, questo è un video che vi porto la prossima volta, concentriamoci sulle pagelle di Nante Juventus perché sennò diventa un po' troppo lunga la questione, vi dico che al termine però di questo video vi lascio anche la clip della mia live reaction alla tripletta di Di Maria, mettiamo tutti insieme, facciamo tutti insieme, ve lo metto all'interno delle pagelle e quindi iniziamo, ovviamente c'è il video di ieri, il post partita di ieri, potete trovarlo qui sul canale, è andato anche molto bene e di questo vi ringrazio. Allora, Allegri sei e mezzo, mi ha fatto ridere perché qualcuno nei commenti mi ha scritto ma che merito ha Allegri se Di Maria fa quel gol lì, certo che non è merito di Allegri se Di Maria fa quel gol lì, ci mancherebbe altro ma Di Maria è un calciatore della Juventus, allora la domanda che faccio è qual è la colpa di Allegri? Ieri ha messo in campo una formazione logica e coerente con quelli che avevo a disposizione, ho fatto dei cambi forse un po' troppo in ritardo se vogliamo perché ero lì a mangiarmi fino alle ossa perché avevo paura che Di Maria potesse farsi male, era l'unica cosa che mi importava era preservare la condizione di Di Maria. Però ieri con quello che c'era, quello si doveva fare, affrontato una squadra che si doveva battere, è stata battuta, prestazione dell'andata è stata poco convincente perché non si è chiusa la gara. Ieri la gara si è chiusa, certo ti ha dato una bella mano Di Maria ma non è che è colpa di Allegri se Di Maria fa il fenomeno, anzi meno male che Di Maria fa il fenomeno. Poi per quanto mi riguarda l'allenatore deve anche dare quell'impronta di sicurezza alla squadra, la sicurezza è arrivata probabilmente sia dal punto di vista della squadra risposta in campo, sia dal punto di vista del leader tecnico che è stato Di Maria, quindi della squadra trascinata dal giocatore, sia anche dal fatto che la Juve probabilmente ha pensato sia alla Juve, siamo in Europa League contro una squadra di minor livello, non possiamo fare altro che andare avanti. Credo che il voto di Allegri sia 6 e mezzo perché la squadra è stata ordinata, non l'ha mai rischiato, è andata a raddoppiare, è andata a triplicare, a cercare il gol del 3-0 anche se non arrivava, una partita di gestione del secondo tempo, penso che Allegri sia soddisfattissimo e io con lui, quindi 6 e mezzo Massimiliano Allegri. Voto 6 a Cesni che per tanto tempo è stato spettatore non pagante, poi nel finale qualcosa è cambiato, non so se è perché è uscito Danilo ed è entrato Bonucci, non so se è perché loro sono retti da un pubblico eccezionale e incredibile, che è stato il vero fenomeno insieme a Di Maria di ieri perché loro veramente hanno fatto qualcosa di bellissimo, bellissimo, o perché comunque la Juventus era stanca e loro avevano quel motto d'orgoglio rimanente, nel finale ha iniziato a tirare con costanza. Cesni voto 6, direi che il suo l'ha fatto abbondantemente in quei pochi casi in cui è stato chiamato in causa. Voto 6 a Bremer, che secondo me è stato il più tranquillo della retroguardia a Juventus di ieri, ribadisco, non c'è stato bisogno di fare chissà che cosa, però non ci sono state particolari sbavature, anche all'andata non c'era stato bisogno di chissà che cosa, però Bremer l'errore madre l'aveva fatto, da cui era scaturito madre insieme a tanti altri, un errore nell'azione madre l'aveva fatto, da cui era scaturito poi il pari. Per l'1-1. 6 a mezzo d'Alexandro, mi è piaciuto tanto ieri Alexandro, ieri credo che Alexandro abbia fatto una grandissima partita, ma proprio una grandissima partita. In questo contesto il ribraccetto di sinistra si trova a suo agio, poi quando si ricorda che è un calciatore, riesce ancora a fare il suo, nel finale salva praticamente un gol, si sostituisce a Cesni. Ieri era così in forma che non voleva far passare niente, anche in occasione del terzo gol di Rimaria è andato a chiudere su Vlaovic, addirittura a morta vuota. Ovviamente è uno scherzo, però segno che ieri era concentrato, era in forma, era pimpante, quindi 6 a mezzo d'Alexandro mi è piaciuto. Si è riposato anche lui, ce l'ha fatta. Capitano, mio capitano, si è riuscito a tirare il fiato per qualche minuto sul 3-0, una decina di minuti li hai saltati. Ce l'ha fatta. Giocatore troppo importante in questo momento per la Juventus Danilo, troppo importante. 6 a mezzo anche ieri, prestazione solida, rocciosa, determinante. Il giocatore è molto, molto importante. 6 a mezzo. Se è più a De Sciglio, perché quel più? Perché solitamente De Sciglio fa il compitino e basta, invece ieri l'ho visto pimpante, bello che provava a dribblare. Poi tante volte non ce la faceva, non riusciva a creare la superiorità numerica, però anche solo il fatto di provarci, secondo me, è una buona indicazione. Si è fatto un tunnel da solo, mi ha fatto molto ritere in quella situazione. Ieri abbiamo sfatato una statistica terrificante, perché con De Sciglio titolare si sono stati eliminati dal Bernabeu nel ritorno, nella partita vinta per 3-1. Con De Sciglio titolare siamo stati eliminati dall'Ajax in casa, con De Sciglio titolare siamo stati eliminati dal Villareal in casa. Quindi tutte e tre le volte, da quando De Sciglio è la Juve e con Max Allegri in panchina, tutte le volte che si è stati eliminati da una competizione, eliminazione diretta a gara del ritorno, De Sciglio era titolare. Avevo una paura terrificante per questa statistica. Ieri si è riusciti anche a sfatare questa cosa qui. Quindi, fantastico, benissimo, sono contento. 6.5 Locatelli, solida e solita prestazione di Locatelli davanti alla difesa, che va anche a dare una mano al pacchetto arretrato. Ieri poche sbavature a parte Locatelli. Anzi, se Salimento si è riuscita a fare una partita di gestione nel secondo tempo, è merito anche del centrocampo, che finalmente, ancora una volta quello titolare, ha ritrovato il suo equilibrio, le sue dinamiche, quindi molto molto bene. 6.5 anche Rabiot, ha fatto la sua partita ottima, mannaggia te a quel gol sbagliato che Di Maria poteva fare pure l'assist, però direi che la prestazione di Rabiot è stata molto molto buona. Ripeto, il centrocampo che ieri ha girato come doveva girare, si è visto palesemente. Voto 7 a Nicolò Fagioli, perché? Perché Fagioli era quello che andava in pressa in più di tutti, e il gol del 1-0 di Di Maria nasce proprio da un recupero di Fagioli, da un break di Fagioli al centrocampo, e quel passaggio a Di Maria sull'esterno. Poi ci arriveremo quando parleremo di Di Maria, però ve lo dico già adesso. Secondo me Fagioli non poteva nemmeno immaginarsi che quello sarebbe diventato un assist per un gol così bello. Cioè Di Maria ha visto la palla arrivare perfetta, l'ha presa in considerazione, l'ha ragionata e l'ha fatta. Fagioli semplicemente ha detto la passo a Di Maria, che in una buona posizione vediamo che cosa si inventa. Secondo me nemmeno lui era pronto a una roba del genere, e direi che è andata molto bene. 6,5 a Kostic. 6,5 a Kostic che mi ha fatto un po' bestemmiare in occasione del palo, perché in quella posizione capisco che se uno ha il piede il palo lontano lo può cercare, lo può trovare, lui l'ha trovato, l'ha cercato e l'ha trovato, e l'ha preso. Perché? Perché quello è un tiro complicato. Cioè Fagioli praticamente a porta vuota, a mezzo metro, un metro, un metro e mezzo, da te che ha tutta la possibilità di fare gol letteralmente a porta vuota perché vede tutta la porta del portiere in uscita. Quindi non vedo il motivo per non metterla lì. Kostic comunque l'Europa League l'ha già vinta, è campione in carica, è un giocatore importante, e sicuramente a questi livelli uno come Kostic nella Juventus è oro che cola. Quindi sei e mezzo a Kostic, che quella fascia l'ha fatta più di una volta ieri, grande prestazione anche dal punto di vista atletico del nostro numero 17. E poi dieci di Maria. Dieci di Maria. Perché con il Maccabi Haifa gli avevo dato nove, tripletta di assist. Se mi fa tripletta e basta, con quel gol lì, procurandosi il rigore, procurandosi l'espulsione, e facendo il terzo gol di testa, facendomi una partita di lotta, facendomi una partita di tecnica, facendomi una partita dove parte largo a destra, una partita dove va centrale, dove fa tutto. Qualità, quantità, capolavori, freddezza, leader. E non posso dargli meno di dieci, eh? E non posso. Devo dargli dieci. Il primo dieci della stagione sono piglia di Maria. La partita di ieri è un'opera d'arte di Di Maria, è un'opera d'arte. Andrebbe esposta in un museo la partita di ieri di Di Maria. Clamorosa. Mi ha fatto ridere. Uno nei commenti mi ha scritto, la diciamo così in simpatia, perché intanto leggo dei commenti. Tu che non volevi Di Maria. Adesso hai cambiato. Tu che non volevi Di Maria. Tu che addirittura hai sperato che perdesse la via dei mondiali. Io che da sempre ho detto, vinca l'Argentina che per l'amor di Dio non deve vincere la Francia. Io che ho sempre detto, spero che lo vincano Di Maria e messi il mondiale, se devo ti fare l'Argentina. Perché se lo meritano. Io che ho sempre detto, sono matto di Di Maria. Sentire sta roba qui. No, anche perché poi, no, all'inizio mi prendevo la merda perché Di Maria lo volevo e Di Maria rendeva poco. Adesso mi prendo la merda perché Di Maria rende, ma ero io che non lo volevo. Allora non c'è mai... Mi fanno sempre sorridere queste cose. Poi, se devo dirvi, la prima parte di stagione di Di Maria mi ha deluso, sì. Sì, lo dico senza problemi. Ci sono anche i video che lo testimoniano. Per me ha fatto una prima parte di stagione da bocciato. Questo è Di Maria. Da quando è tornato al mondiale, da quando è campione del mondo, è un altro giocatore. Ha sbagliato una partita, credo. Una partita da quando è tornato. Che non mi era piaciuto. Ma lì era stato proprio brutto, brutto, brutto. Ma una. E capita. E succede. Adesso Di Maria è determinante anche contro le squadre piccole. Perché una volta Di Maria ti giocava da fenomeno la partita di cartello, di nomea. Adesso te le gioca tutte così. Tutte così. Prima parte di stagione si è palesemente limitato perché non voleva saltare il mondiale. Palesemente. Ogni acciacchino, aia, sto fuori due mesi. Perché voleva andare al mondiale. E anche il mondiale non l'ha giocato tutto, eh. Perché parte la prima partita con l'Arabia Saudita. Poi ne salta un bel po' e torna a titolare in finale. E anche prima del mondiale, lo ricorderete, prima del mondiale di Maria non giocava nella Juve, eh. Non stava bene fisicamente di Maria prima del mondiale, eh. Era il cambio da 20 minuti. Io addirittura pensavo potesse andare via a gennaio. Addirittura. Mi hanno messo l'anima in pace e ho detto, oh, se questo non gioca neanche la Juve. Invece era proprio un discorso fisico quello lì. Che si è portato avanti fino alla finale del mondiale. E poi è stato buttato nella misca dove ha fatto gol anche in finale. Dimostrando che è ancora un giocatore clamoroso. Io non so se ci sarà un altro anno di Maria. Non ho idea perché non ho idea di dove sarà la Juve, cosa farà la Juve, dove giocherà la Juve, quali saranno le competizioni della Juve. Non so niente. Però è un bel peccato pensare che si possa fare solo un anno. Quindi se solo un anno sarà, mi piacerebbe arrivare fino in fondo a questa competizione con Di Maria, sperando che possa trascinarci. Perché adesso, forse è facile dirlo oggi, dopo la tripletta, ma Di Maria è uno dei giocatori più forti che la Juve ha tesserato in questi anni. Uno dei giocatori più forti che la Juventus ha tesserato in questi anni. Cioè, se passiamo dal ciclo di Conte ad oggi, giocatori sul livello di Di Maria, a me viene in mente Pirlo, viene in mente Ronaldo, che possono sedersi al tavolo con Di Maria, e poi forse pochi altri, perché possiamo ragionare su Tevez, possiamo ragionare sul primo Pogba, possiamo ragionare su Higuaín, io credo che non si possa ragionare nemmeno su Di Bala, perché Di Maria è pareggiamente più forte di Di Bala. Di Maria è uno dei giocatori più forti, beh, c'è Dani Alves, sicuramente, ma pochi altri, eh. Magari adesso qualcuno me lo sono perso, ma davvero pochi altri. Gigi Buffon, Gigi Buffon, perché è un fenomeno nel suo ruolo, ma davvero pochi altri possono sedersi al tavolo di Di Maria. Davvero pochi. Quindi, eccezionale, meraviglioso. E vedergli fare queste cose con la maglia della Juve è un gran regalo a Luca di qualche anno fa, che guardava il Real Madrid vincere la décima e diceva toccava forte quel giocatore lì, mi piacerebbe vederlo la Juve. Ce l'abbiamo fatta, Luca. Ce l'abbiamo fatta. Peccato solo per la stagione, per come sta andando, e peccato solo per Di Maria, che non si sa se rimarrà oppure no. Ecco, l'unica cosa che mi aveva veramente esaurito di Di Maria era quel tire molla iniziale sul vengo, non vengo, faccio un anno, forse ne faccio due. Quello lì mi aveva esaurito. Quello lì assolutamente mi aveva esaurito. Ma ne valsa la pena, eh? Ricordate tutti i video di quest'estate, quelli anche in spiaggia, con i microfoni, eh? Ma Di Maria arriva, Di Maria non arriva. Di Maria clamoroso, eh, ragazzi? Ci siamo ripagati da quelle settimane di stallo sul mercato, perché questo è un fuoriclasse assoluto. Voto 5 a Moise Ken, grave occasione sprecata, secondo me perché brutta, brutta, brutta partita. Non ho niente da aggiungere. È il peggiore in campo, negli titolari è l'unico insufficiente, giocatore completamente fuori dalla partita ieri. Serve fare più di così Moise in quelle occasioni che hai dal primo minuto, perché dal primo minuto è un giocatore diverso rispetto a quello che va a subentrare. Se mi spreca anche questa da titolare, significa che non siamo sul pezzo. Voto 6 a Vlaovic, ecco, poi diciamo la verità. giocatori che sono subentrati dopo è partita ormai praticamente conclusa. 6 a Vlaovic, 6 a Quadrado, se proprio vogliamo. Senza voto Paredes, senza voto Healing, senza voto Bonucci. C'è veramente poco da dire sui giocatori in più. Bene o male quello che c'era a dire era sui titolari. E quindi niente ragazzi, io vi lascio la live reaction ai goldini Maria. Ci siamo portati via un 10 in pagella oggi, quindi giornata giornata speciale, giornata fantastica. E noi ci vediamo poi nel pomeriggio con un altro video dove parleremo anche del sorteggio delle 12. Quindi un abbraccio e a dopo. Vabbè, che cosa cazzo ha fatto questo? Vabbè, che questo non può giocare in Europa League. Questo è troppo forte per giocare in Europa League. È un fenomeno. È un fenomeno. Dopo il gol dell'altro giorno da Fenomeno ha fatto un gol ancora più da Fenomeno perché questo è un cazzo di fenomeno. Angel Di Maria, che gol clamoroso. Gol clamoroso. Clamoroso. Clamoroso gol di Di Maria. Gol troppo bello. Madonna, ma ragazzi, ma di prima così. Di Maria, quella è la sua posizione. Parte da destra, largo, e può fare quello che vuole. Gol clamoroso. Colpo balistico di livello allucinante. Allucinante. Mamma mia, anche Allegri che fa così. Giocata della Juve, gran passaggio di Rabiot ancora per Di Maria. Sempre in posizione che adora Di Maria. Di Maria salta al portiere! Rigore! Pensava avesse fatto il gol di tacco. Rosso! Per chi? Difensore, cos'è successo? Madonna, Di Maria ragazzi, ma cosa ha fatto? Di Maria ha saltato il portiere in 5 mm. Allora, la mano la usa il numero 4, però rosso? Rosso mi sembra un po' eccessivo. Vediamo dagli 11 metri. liberamente prima ha tirato un capolavoro dagli 11 metri. Vediamo cosa ci regala. Cosa può uscire da quel mancino dagli 11 metri? Vediamolo. Doppietta di Angel! Doppietta di Angel! Lui è la Juventus in questo momento. Cioè, c'è poco da dire. Lui è la Juventus in questo momento qui. Si scrive Juventus si legge Angel Di Maria. Aveva tirato di tacco, sì, aveva tirato di tacco. Dai, Alexandro, ti prego! Gol di Di Maria? Tripletta di Di Maria. Tripletta di Di Maria. Madonna, non entrava mai. io... Ma è che Blauic cosa ha sbagliato lì? Ma che cosa mi ha sbagliato? Si porta a casa il pallone. Ti prego, mister, toglilo adesso. Toglilo. Toglilo, mister, basta. Ma quando è che è entrata? Non mi sembrava. Ma tra l'altro Alexandro l'ha tolta Blauic. Alexandro l'ha tolta Blauic. Ah, sì, è entrata lì. Guarda, Alexandro che entra Blauic e Blauic che dice sì, vabbè, ma cosa fai? Sì,